Il telaio Jacquard. Un dispositivo all'avanguardia che automatizzava la tessitura di seta. Barbage voleva riprodurre la sua tecnologia per costruire la sua nuova macchina analitica. Dimostro come funziona, seguitemi. Vi consiglio di mettervi da questo lato. È molto semplice. Jacquard si trova in alto e il suo compito è quello di selezionare i fili da sollevare. Premendo il pedale sentirete un comune provenire dall'alto e vedrete le corde sollevarsi. Grazie. 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 Grazie.